Clementina, in questa tabaccheria è stato vinto un biglietto a 2 milioni di euro, quale biglietto potrebbe essere stato grattato? Non si sa, perché purtroppo la lottomatica non ce lo dice di preciso, però dovrebbe essere un biglietto dei miliardari, della famiglia dei miliardari, o il mega o il max. Del costo di? O di 10 o di 20 euro. Secondo lei, il vincitore, chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere un'incognita, però speriamo che sia una persona che ad oggi le possono servire questi soldi che hanno vinto e che sia un gelese. Qui vengono anche molti pensionati, operai? Sì, quasi la classe media, quasi tutti, un po' di pensionati, giovani, chiunque. Cosa avete provato quando avete saputo che qui è stato vinto un biglietto a 2 milioni di euro? Eh, siamo rimasti un po' così perplessi, però abbiamo chiesto la conferma a chi di dovere e ci hanno detto che è una realtà, una verità. È arrivato qualche bigliettino di ringraziamento? No, ad oggi no, ad oggi no. Sperate che arrivi? Speriamo che arrivi e gli facciamo i migliori auguri da parte nostra. E speriamo che spenda bene questi soldi? Speriamo che li spenda bene in famiglia e per quello che gli potrebbero servire. E soprattutto che sia una persona bisognosa. Che sia una persona bisognosa ad oggi, sì. Clementina, vogliamo fare gli auguri a questo fortunato vincitore o fortunata? Allora, gli auguri li facciamo sia da parte mia che dalle mie cognate, Giusy, Laura, Filippo, che siamo tutto il gruppo che lavoriamo qua. Quindi auguri veramente di cuore. Complimenti.